La star nella star è... Eeeh! Luca Laurenti! Avete vinto! Avete vinto! Ciao Luca! Non sapete che piacere che mi fa qua? Ti senti libero? È un mese che non respiro. Mi sono dovuto portare il saturimetro da casa. Com'è? Ti sei divertito? Sì, mi sono divertito ma non ci ho capito niente perché dentro è come fare un corso da palombaro. Ma pesa anche tra l'altro. Ma chi sta scherzando?